mamma mia ragazzi sotto nei commenti mi dovete scrivere quante fotte osimene quante caccia hai fatto osimene mamma mia vero a tutti i ragazzi in internet logica ci siamo tornati per questo nuovo video mamma mia raga ma che vittoria i napoli vince la a la spezia per 4 a 1 ragazzi mamma mia secondo me il napoli deve vincere tutte e tre partite per andare in gemme forza ragazzi forza tanto a che si vuole dobbiamo battere solo l'udinese la fiorentina e il verona devo aiuto devo aiuto mamma mia ragazzi ma quante fotte vittor osimene mamma mia ragazzi se vi fate caso è perché sono fuori a baccone che sto facendo questo post partita ragazzi dai dai io voglio pure allora ragazzi secondo me se il napoli va in champions gattuso rimane a napoli ma sempre ma sempre il gattuso con napoli gioca una meraviglia gioca una meraviglia forza ragazzi e ci maniamo dai 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 vabbè ragazzi noi ci becchiamo martedì alle ore 20 e con la singola per questa partita da me tutto vi auguro vi auguro una buona domenica da vostro Emanuele e buona festa della mamma ciao aiuto ciao